Il target da 0 a 18 anni è quello che sperimentalmente e scientificamente dà i maggiori risultati sulla formazione dei corretti stili di vita e sulla promozione della salute. Noi da 12 anni investiamo nella formazione e nella promozione della salute nelle scuole. Questa attività è diventata anche un livello essenziale di assistenza perché è stato inserito dal Piano Nazionale della Prevenzione all'interno dei programmi predefiniti. Quindi la Regione Puglia è stata precursore rispetto a questa iniziativa di promozione della salute e dei corretti stili di vita nelle scuole.